Ho avuto un'esperienza bellissima con 3D in casa, ho venduto una casa che era impossibile da vendere, è andata bene, grazie a Simone ci ha seguito in ogni passaggio, è stato molto bravo, ho avuto molta pazienza, è andato tutto bene e adesso siamo qui a festeggiare. Arrivederci a tutti!